Infatti Sofì si è andato benissimo ma non è morto nessuno! Non è morto adesso! Ben fatto! Sofì ha stagione completata! Sì! Dark Artist! Vediamo dov'è dov'è! Mi viene sempre un po' d'ansia! Dov'è dov'è? Non c'è! Ci hanno scammato Sofì! Ciao a tutti e benvenuti dai canali! Sofì! E oggi che facciamo di quello Sofì? Oggi prendiamo la skin del torneo di Stumble Guys! E siamo tornati amici con un nuovo video! Infatti come dice Sofia sta per finire il torneo di Stumble Guys ma prenderemo la skin speciale Dark Fire Fist! Che sarebbe la versione cattiva nera del Sensei Fire Fist e guarda Sofì 7.950 punti medaglie per prenderla! Noi ne abbiamo... 7.845! Ovvero con 105 punti per fortuna! Una sola partita ci manca! Basta che arriviamo in finale Sofì! Anche se non la vinciamo! riusciremo a prendere questa skin speciale! Mamma mia quanto abbiamo giocato! Vero Sofì? Io ho giocato un sacco ma soprattutto vabbè sempre niente stamattina che stavo a scuola! Anche perché stamattina è finito il torneo di Sky Rocket! E siamo arrivati alla Top 1! Top 1 che ci ha dato come ricompense il Metal! Come si chiama questo? Il Metal Goblin Match! E che altro di epico? Noi abbiamo già... Avevamo già... Questa ce l'avevamo! La versione metallica dell'alieno e del pulcino! Ma guardate! Ci ha dato... Avevamo pure il Ninja! Il Ninja? Ci ha dato questo! Il Metal Biking! Che non è proprio tutto metallico! Allora Papi! Capitan Goldenheart! È vero! Sì! Lo stiamo usando ultimamente! Sì! Perché... Gabriele amici ve l'abbiamo detto! È super fortunato! Con cosa vuoi fare la finale? Vediamo! Con questo! Mi sembra giusto! Perché RipStreamer è la versione leggendaria di questo evento! Quindi con la versione leggendaria andiamo a prendere questa speciale! No Papi! Io ho l'angra! Ma stai tranquilla! Ma tu giochi sempre! Come sempre il tuo trucco! Fatti i fatti tuoi! Non andare a dare calci e pugni perché poi succede che qualcuno... Vedi quello con l'abbraccio! Mamma mia! Lo stavo buttando fuori a quello con l'abbraccio Sofì! Sì ma io ho paura! Tra l'altro noi l'abbraccio non lo usiamo più eh! L'abbiamo proprio tolto! Solo in la valendo magari lo usiamo qualche volta! Ma io sinceramente non uso neanche più la banana eh! Non questo via! E poi io non uso proprio molto diverso! Parlando, ridendo e scherzando anche con questa tua agitazione che non serve a niente! Sono stati fatti fuori otto! Ne mancano due! Altri due! Altri due! E sei già in semifinal! In semifinal! Salta! Attenzione qua che ti danno il pugno! Attenzione! Oh! La devi stare attenta eh! Mi raccomando come ti ho spiegato! Cerca di entrare quando non c'è nessuno! Perché ti danno il pugno e ti fanno cadere! Nove su dieci! Dai un altro! Ah non si succede un altro? Sì! Siamo già in semifinale! Round due su Block Dash Legendary! Sì! Due già fuori Sofì! Ne mancano sei! Due di otto! Siamo tranquilli! Vedi che stanno andando abbastanza lineare! Vabbè immagini qua tipo qualcuno mi fa il pugno! Mi giro e penso che quello sia il lato! E mi butto! Non ho capito cosa che c'è! Allora tipo se adesso qualcuno mi dà il pugno! Io mi giro con questa visuale verso qua! Sì! Penso che quella sia la dritta! E vado a fare il percorso e cado! E ti vai a suicidare! No vabbè dai! Sarebbe ridicolo! Comunque Sofia! Qua stanno iniziando ad essere un po' bravi! Non è morto ancora più nessuno eh! È vero che queste ondate sono veramente semplici! Easy proprio! Mi devi fare una easy win! Tenta quel trucco che ti ho detto! Uh mamma mia! Occhio c'è un Rubikubit! Un Rubikubit che forse sta morendo! Vediamo! Ti faccio sapere subito! Sì ne sono morti due! Rubikubit è un altro! Ne mancano quattro! Sofì stai andando benissimo! Ah ho capito Rubikubit! Avevo capito! Rubikubit! Rubikubit! Ma che stai dicendo? La skin! La skin si! La versione è di italiano! Rubikubit la skin! Va bene mentre Sofia gioca amici come sempre attenzione qua alle esplosivi sali Sofi! Oh 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 salta salta! Uh 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 ce l'hai fatta! Oh attenzione Sofi qualificata! Guarda qua come diventano difficili e adesso ti voglio vedere in finale! Finale! Siamo in finale! Stavo dicendo prima ovviamente amici nel frattempo vi lasciamo sopra la playlist per tutti i video su Stumbleguys! dove facciamo oltre gameplay, l'unboxing, le challenge! A proposito di unboxing vi ricordo che stiamo facendo l'album di Stumbleguys! Vero Sofi? Mi dillo tu perché sono super concentrato! Ok ve lo dico amici ci manca pochissimo per completarlo vi faremo vedere l'album e ovviamente chiederemo anche il vostro aiuto in un video! Ma non aggiungiamo altro non spoileriamo tutto lo vedrete prossimamente! Papi guarda! Intanto Sofi! Ero l'unica rimasta! Infatti Sofi si è andato benissimo ma non è morto nessuno! Papi non è morto adesso! Ma non fa niente a questo punto abbandoniamo! Ma io te l'ho detto la finale è così! La finale è sempre così muoio! Comunque sei stata un po' sfortunata e non meritavi di morire così con le spine! Però vedo che ben fatto Sofi a stagione completata! Sì! Dark Fire Feast! Vediamo dov'è dov'è! Oh no! No ti prego pioggiamolo Sofi! Siamo stati giorni e giorni per prenderlo! Sì! Ti immagini non c'è? Magari dicono ben fatto e poi non lo troviamo! Mi viene sempre un po' d'ansia! Dove? Dove? Non c'è! Ci hanno scammato Sofi! Dove? Ah giusto è speciale! E' speciale! Eccolo qui! Tra l'altro verde perché Gabri usa sempre il personaggio verde! Usiamolo normale! Anzi io lo vorrei mettere bianco! Usiamolo bianco! Ma che c'ha l'occhio? Visto c'ha la cicatrice! La cicatrice sì! Questa è Dark Fire Feast! Come l'hai fatto tu è più bianco che nero però è veramente bellissimo! C'ha una cicatrice dietro! No è un segno non so cosa significa in giapponese! Abbiamo le due versioni! Quindi missione completata amici! Ma prossimamente vi faremo vedere anche qualche ruota speciale perché vedete abbiamo già tantissime gemme! Non vogliamo spoilerare nulla ancora ci sta la ruota speciale da 2000 ma anche questa è ruota cavalcante e la ruota egiziana antica con tutte leggendarie! Ci manca Parator, Colopata e Oros! Sono tre egizie! Tanto Sofia come siamo noi troveremo il doppione di Anubis oppure la mummia egizia! Ma questo lo vediamo in un prossimo video amici per il momento è tutto! È il momento dei... Saluti! E quindi vi saluto da parte di Dark Fire Feast! Vi attivate la campanellina per non perdere nessun video! Mettete like e iscrivetevi sui nostri social ovvero Instagram e TikTok! Vi saluto da parte di Dark Fire Feast! E... Ciao! Serviteci sempre! Ciao! Ciao! Ciao!